Prego, continuate. Consente rientri perché nonostante il festival di San Ramone che è un ragazzo che approda al festival necessariamente avrà successo, quindi farlo poi esibire tardissimo con in mezzo sicuramente è un grande spettacolo, su questo io non discuto, però mi sembra estremamente irrispettoso nei confronti di tutto il lavoro che c'è dietro. Questa è semplicemente una considerazione e volevo sapere i motivi e anche se c'erano state delle proteste da parte dei… No, le ragioni, certo la protesta di Kanda per ultimo c'è, ci mancherebbe altro perché le motivi che ho detto prima al tuo collega c'erano richieste da parte dei suoi big che volevano una certa collocazione.